Continua il calendario degli eventi culturali di Roccella Ionica, che ha preso il via con un gruppo di primi appuntamenti di cultura, spettacolo, musica, concerti dal vivo. Ricco e diversificato il programma di appuntamenti che stanno animando l'estate del Comune Ionico. Tra questi, diventati ormai un must dell'estate roccellese, soprattutto i caffè artistico-letterari dell'ARAS. 14 incontri di cultura e di spessore, per riflettere e conoscere. Tra questi ultimi, l'appuntamento con il concerto di Eugenio Abruzzese, un evento musicale che ha riscosso un buon successo, ospitato dall'ex Convento dei Minimi. Sono contento di suonare qui perché è sempre bello condividere la musica, perché l'arte alla fine nasce per questo, per espressione sicuramente, ma anche per condivisione. Quindi è bello che ci sia la gente che venga ad ascoltare e in qualche modo spero ad apprezzare quello che duramente, comunque con lo studio e il sacrificio fa un artista in qualche modo. Quindi è sempre bello, queste serate sono sempre belle e sono contento di essere qui. Grazie a tutti.